Ad Avellino, unico capoluogo di provincia al voto, si va al ballottaggio. Il 24 giugno sarà sfida tra Nello Pizza, candidato del centro-sinistra, e Vincenzo Ciampi, 5 stelle. Il primo, sostenuto da sette liste, compreso il PD, ha raccolto il 42,9% delle preferenze, mentre Ciampi si è attestato al 20,2%. L'alleanza è questa e credo che andremo avanti così. Mi pare che tutti i tentativi per cercare di comporre un'alleanza più ampia sono stati fatti prima di questa competizione e dopo mi sembra una soluzione da non ricercare. Noi non faremo nessun apparentamento, ascolteremo tutti, valuteremo tutte le proposte e stringiamo un patto soltanto con i cittadini. I nostri interlocutori privilegiati sono i cittadini, quindi non ci sarà nessun apparentamento. Significativo il dato numerico della lista mai più con il candidato Luca Cipriano che ha incassato il 13,1% e si pone come ago della bilancia per il ballottaggio. Il nostro movimento si conferma come una grande forza in grado di determinare l'esito del ballottaggio del 24. È evidente che dialogare con il PD Avellinese è stato ed è abbastanza complesso. Esce sconfitto invece il centrodestra. Sabino Morano, sostenuto tra gli altri da Lega e Forza Italia, prende il 10,4%. Dino Preziosi il 6,4%. La sinistra di Nadia Arace chiude con il 4,2%, 2% per i cittadini in movimento di Passaro, 0,57% per Giuliano Bello di Casa Pound. Tra i candidati al Consiglio Comunale si segnalano Livio Petitto del PD che sfonda quota 1000 e Laura Nargi con 744 preferenze. Nella lista mai più buona l'affermazione dell'ex assessore all'urbanistica di Foti, Marietta Giordano, che ha raccolto 382 voti. In quota centrodestra sembrerebbero sicuri di uno scranno Ines Frungillo, Forza Italia e Damiano Genovese della Lega.